Allora, Jay, andiamo? Sei pronto per l'iscrizione in palestra? Ma che iscrizione in palestra? Io non ne ho bisogno, Daniel, lì ce l'ha perso dal trainer! Com'è, l'hai perso nel treno? Allora, Jacopino, sei pronto per l'allenamento di oggi? Sì, vediamo tutto! Iniziamo con gli squat! E adesso, alleniamo i glutei! I glutei! Alleniamoli! Tutto chiaro? No, non ho capito niente, puoi rifarlo? Dai, ma non è giusto, anch'io voglio la personal trainer! Tranquillo, Dan, ti mando una mia amica, una cioccolatina caliente! Una cioccolatina caliente? Oh, sì, la voglio tutta! La scarto come l'indoor! Oh, sì, dai! Bella cioccolatina, bella cioccolatina! Non vedo l'ora di scartarti tutta, tutta, tutta! Chi è sto qua? Ciao, be' flaccidone bianco! Sono Amanda, la tua personal trainer! Ma dai, ma sembri balottelli con la parrucca! Che esercizi mi fai fare? Particolari! Ti piace Dragon Ball? Ah, sì! Dragon Ball mi piace un sacco! Allora, beccati su Drago Sharon! No! Adesso, amore, esprimi il tuo desiderio! Voglio morire! Ehi Jay, hai visto quella? Continua a fissarmi! Ah, però, che fregnaccia! Eh, ma lo sai che sono timido, eh? La cosa mi mette un po' a disagio! Ma che timido! Adesso, adesso devi far così diretta a me, allora vai da lei, con tonno da figo, le dice Ehi tu, devi smetterla di fissarmi così! Ah, quindi io vado là e con tonno profondo le dico Ehi tu, devi smetterla di guardarmi così! Eh, che ne dici? Sembro un... No, no, un coglione! Ah, vado! Vado! Ehi tu, devi smetterla di guardarmi così! Oh, sì! Lo so, torta muy loca, che mi vuoi, ma anche io ti voglio, ma purtroppo sono a dieta! Pronto, dottore? Sì, venite subito! Ma sai che ti dico? Fanculo la dieta! Amore mio! Soccer! Soccer! Scusiamo! No, no! È l'amore della mia vita! Lasciatemi, stacchettiamo! So che ti amo! Ma fattelo via, dai! Scarpe su misura, prese Pantalone aerodinamico, preso Maglia termica con guanto protettivo, presa E adesso... Si va a correre come gazzelle! Oh! 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 Crociato rotto! Oh! Fuori sei mesi! Ci vediamo a Natale! Oh! Vede, signor Malnati, per dimagrire Non le serve un'attività fisica intensa Sforzi esagerati per dimagrire Le basta semplicemente questa E cosa sarebbe? Parliamo di un integratore totalmente naturale Che le toglie senso di appetito E le permette di assumere la giusta dose quotidianamente Ma è sicuro che sia naturale? 100% Ah, vabbè, allora... Mmm... Buono! Cos'è? Sterco di capra Ma che merda! Può dirlo forte Ma se vuole dimagrire, questo è il prezzo da pagare Allora Jacopo, come va con la dieta? Ah, benissimo! Una meraviglia! Mi sono fatto un programma per perdere 20 chili in due mesi Ma così non è che mangi poco? No, no Guarda che è una dieta sana ed equilibrata E oggi cosa mangi? Il piatto Come il piatto? Che buono, ne vuoi un po'? È un po' duretto, però spacca 200 euro di dietologo Beh dai, almeno ora è ufficiale Sono a dieta! Jai, stasera sushi o gli ukiniti e ci sfondiamo come le balene? Dai, ce ne andiamo a bere Fratello, aperitivo di livellanza al baltazar con burrata di giù e culatello di su Tutto dietetico, un milione di calorie Dai, 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 un milione di calorie così! Vi odio, vi odio tutti! Comunque va bene per tutti e tre Sì, grandissimo! Io mangio e bevo, io mangio e bevo E dieta, ciao, dieta, ciao, dieta, ciao, 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 mangio e bevo! Sì, buongiorno Buongiorno Ecco, io volevo dimagrire per l'estate Quindi stavo pensando di iscrivermi nella vostra palestra Perfetto, sì, noi abbiamo un avornamento trimestrale Sono 300 euro se vuole Ah, certo Allora, ecco qua Prego Grazie mille Perfetto, grazie mille, buona estate Ci vediamo a settembre Scusi, non va a allenarsi Ah, perché non basta l'abbonamento? No E io che mi sentivo già così magro, capisci? Così, va, va Grazie Ma vai, settimana perfetta Zero carboidrati Zero alcol Zero sushi Se continuo di questo passo divento macrissimo Daniel, ho preparato le lasagne solo per te Buonissima donna, grazie E anche oggi La dieta dei nici domani Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.